Abbiamo un gruppo di cittadini che sono qui con un cartello strisce blu no grazie. Io ho letto sul giornale, non so se sia vero, che ci sia di vero, ma addirittura 50 euro al mese. Sono 600 euro l'anno. Io le prendo a momenti di pensione, perciò questo è matto, questo è proprio matto, questo si è inventato le cose che non esistono. Poi sempre avendo letto sul giornale sembra che i parcheggi blu non si possano fare sulle gareggiate. Per Caricciata io tendo la strada, allora facessi dei parcheggi sopraelevati, 2, 3, 4, 10 piani. Io non voglio pagare niente, mi fai un contrassegno come fatto al ghetto. Dice, ma quella è una strada a transito limitato, ma non me ne frega niente. A me mi dai un contrassegno e io parcheggio. So che c'è una legge che dice che nelle vicinanze di strisce a buce devono essere per residenti i parcheggi non a pagamento. Io abito a Via Etrulli e lì già c'è l'ASDA, ci sono le scuole, l'Istituto Pacelle. La pagina la dobbiamo portare solo a casa, o si paga o la portiamo a casa. Per me è una cosa ingiusta che io non condivido con nessuno. Io da pendolare ho molti disagi, nel senso che ogni volta che ho una piante, allora la marina l'hanno chiusa. Davanti alla stazione si paga. Hanno aperto il Fertinelli che sta a 300 km dalla stazione, che quando torno a mezzanotte o da far sottopassaggio ci hanno pure messo 50.000 in regola. Bisogna che il comune, anziché fare queste belle drittate, faccia dei parcheggi sopraelevati uno, sennò adotti le soluzioni ad altri comuni, tipo Livorno, che per i residenti non ci sono strisce blu, ci sono strisce bianche, dove ognuno ha un contrassegno dove è residente, e può tranquillamente parcheggiare il numerato suo, personale. A me mi sembra che sia l'ennesima tassa a discapito di noi contribuenti, perché come sappiamo tutti l'acqua è aumentata, l'ammondezza è aumentata, qui si arriva a un certo punto che alla fine del mese si paga, si paga, si paga, quindi anche i parcheggi a pagamento mi sembra ancora una sovrantassa in più. Anche perché quelli già esistenti sono tanti, quindi non vedo l'esigenza di tappezzare i città vecchia di questi parcheggi, ripeto, perché è una tassa ancora in più per i contribuenti che a fine anno va nella cassa delle famiglie e che stanno sempre più stringendo la cinghia. Abito da sola, sono pensionata, mi faccio il dolore alle ginocchia, ora mi vanno a mettere le cose sotto casa, io non ho nessunissima intenzione di pagare, allora io voglio la macchina, il posto gratis sotto, perché c'è chi ha parlato di 10 euro, chi ha parlato di 50 euro, io ho da pagare 50 euro e poi mi trovo al parcheggio occupato da chi paga, non credo che sia giusto questo, no? Dovete pensare che io tutte le mattine per andare a casa, io sono costretto a girare con la macchina dai 30 ai 40 minuti, già per trovare un posto già a pagamento. Lei deve pensare, quando un cittadino spreca di soldi, per girare a vuoto, per girare a vuoto e addirittura dobbiamo anche, e addirittura, in quino, e addirittura dobbiamo anche pagare. A me mi sembra allucinante, mi credo, mi sembra allucinante. Grazie a tutti.